Una serie di appuntamenti importanti per festeggiare i mille anni della chiesa di San Maurizio. I primi ci sono stati la scorsa settimana con le visite guidate all'interno della chiesa, altri ce ne saranno invece nei prossimi giorni. Sì, proprio il giorno della festa di San Maurizio, il della ricorrenza, che è il 22 settembre, quest'anno cade di venerdì, avremo una serata con il più importante storico del Medioevo della nostra diocesi, Giancarlo Andenna, il professor Andenna, che all'interno del salone parrocchiale presso la chiesa di San Pietro terrà una lezio magistralis dedicata al Medioevo, a Gravello Natoce e nel nostro territorio. Invece nei due giorni seguenti, il sabato e la domenica, avremo degli intrattenimenti più piacevoli e leggeri. Il sabato sarà interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, con il pomeriggio presso l'area feste della Madonna dell'Occhio e qui due associazioni gravellonesi, la Compagnia del Basilisco e di Elementi Creative, proporranno una serie di giochi, mentre la domenica, dopo il mattino, si terranno le celebrazioni religiose, mentre nel pomeriggio avremo una passeggiata alla scoperta della gravellona medievale, a partire dal Castrum Cerri, accanto alla chiesa di San Maurizio, quindi la partenza sarà proprio qui, nel piazzale antistante la chiesa, per poi muoversi lungo le vie del paese fino a raggiungere l'area del Castello del Motto, che è l'altro nostro polo medievale. Alla termine della passeggiata ci ritroveremo ancora presso l'area feste della Madonna dell'Occhio per una merenda offerta dalla Proloco e un concerto dell'arpista Caterina Castiglioni, che ci proporrà con la sua arpa Motivi Medievali.